Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo L'uomo esperto. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale youtube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. L'uomo umile sa come agire, ha caratteristiche positive, vive una vita concreta ed è apprezzato da tutti per la sua bravura, il silenzio, per il suo saper parlare al momento giusto. L'uomo buono vive nelle sacre opere redente quindi ogni male non è niente per lui perché lo sovrasta con la sua saggezza e santa intesa. Quindi l'uomo esperto sa comprendere come agire con riverenza perché l'uomo esperto ha caratteristiche sia di umiltà e di bontà. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo L'uomo esperto. L'uomo umile sa come agire per vivere una vita concreta, ricco di sante opere, di umiltà e pace autentica. L'uomo buono vive delle sacre opere redente e ad ogni male sopravvive per arricchire nelle liete speranze. L'uomo esperto sa comprendere come agire con riverenza per vivere momenti di gioia solenne condivisi nella saggezza. L'uomo fedele saprà dare all'umanità senso forte e vivrà con degna emozione nella sua vita tante sante effusioni. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.